Medioevo ellenico. Allora, la volta scorsa ci siamo fermati proprio nel momento in cui stavamo parlando della fine della civiltà micenea. Erano queste le slide in cui ci eravamo un po' fermati. Che cosa succede intorno al 1200 a.C.? Le principali rocche micenee furono distrutte e date alle fiamme. Le tavolette vengono cotte. Ecco, tra l'altro questo per noi è una fortuna perché prima queste tavolette magari erano di argilla cruda. Nel corso di questi incendi dovuti a queste invasioni si cuociono e quindi le tavolette ci rimangono perché quando l'argilla viene cotta diventa un materiale terracotta appunto molto più resistente. E noi possiamo leggere, abbiamo letto le tavolette in lineare B proprio grazie a questo, a quello che è avvenuto intorno al 1200 a.C. Le cause di queste invasioni, di questo cambiamento, di questa fine della civiltà micenea, beh, può darsi, ecco sono delle slide adesso che come vedrete sono un po' ripetitive, però una delle cause principali è la probabile invasione di un altro popolo indoeuropeo, di lingua indoeuropea. Intorno al 2000 sono arrivati gli Achei, bravi, che poi sarebbero gli Micenei, esatto. Dire Achei o dire Micenei più o meno si equivalgono a questi termini, nel senso che Achei indica questo popolo di lingua indoeuropea che invade la Grecia e ovviamente, come vi ho detto la volta scorsa, Micenei diventa la città più importante di questa società, di questa civiltà. I Dori sono altri popoli indoeuropei che giungono nel 1200 e che sono guerrieri forti e poco civilizzati, diciamo così, molto barbari, ecco. Ma dediti al combattimento? Gli Achei, i Micenei, forse, dico forse, avevano non dico dimenticato il loro ardore guerriero, però erano diventati una civiltà senz'altro molto evoluta e invece si trovano davanti a questi popoli che sono appunto i Dori, che sono molto più determinati di loro a quanto pare, e comunque ebbero la meglio i Dori rispetto agli Achei. I Dori sono, come vedremo le prossime volte, gli antenati degli Spartani e quindi, infatti, gli Spartani sono proprio, si vantano di essere discendenti di questi Dori che hanno invaso la Grecia nel 1200 a.C. Le tavolette ci parlano però anche di un pericolo proveniente dal mare. Ecco, purtroppo, in questo periodo appunto del Medioevo ellenico, le fonti sono molto vaghe e non sappiamo, non abbiamo dei punti di riferimento così stabili e precisi, riconosciuti da parte di tutti. Alcuni dicono, infatti, che siano stati proprio i popoli del mare ad aver invaso la Grecia in quel periodo. Comunque, carestia e siccità provocarono rivolte interne. Non sappiamo bene le cause. Sta di fatto che intorno al 1200 cade e finisce la grande civiltà micenea, i palazzi non furono più ricostruiti, la scrittura scomparve, l'arte si miserì e allora possiamo parlare, almeno gli storici hanno utilizzato questo termine, di Medioevo ellenico, perché è un periodo scuro, è un periodo di cui sappiamo poco. Ecco perché viene utilizzato questo periodo. In questo periodo anche la Grecia è molto divisa. Ecco, c'è il frazionamento del mondo greco. Il territorio greco, senza più il potere dei re, esempio di Micene, che era, abbiamo detto, egemone, visse diverse ondate migratorie provenienti dal nord, ma anche dalle coste della vicina Asia minore, dando così vita a nuove stirpi con nuovi ceppi linguistici. Alla fine del IX secolo a.C., praticamente quindi alla fine del Medioevo ellenico, che va dal 1200 all'800 a.C., abbiamo i Dori, cioè appunto, dicevamo anche prima, i discendenti di quegli invasori del 1200, che abitano il Peloponneso, come dicevamo, Sparta in modo particolare, e alcune regioni settentrionali. Gli Eoli, che abitano la Beozia, la Focide, la Tessaglia e l'isola di Lesbo. E infine gli Ioni, che sono appunto, ad esempio, gli Atenesi, quindi quelli che abitano l'Attica, l'Eubea e le coste dell'Anatolia. Ecco, questa è la fine della civiltà dei Micenei. Qui vedete una cartina che ci mostra le invasioni dei Dori. E poi ci saranno delle colonizzazioni, ma di questo parleremo soprattutto la prossima volta. C'è la crisi dei Micenei, i Dori sono i nuovi dominatori. Al posto del Wanax, il re assoluto, abbiamo un Basileus, che governa sostenuto da una Gerusia, un consiglio di anziani, e quindi non ha più un potere assoluto, ma deve fare i conti con i nobili, con gli aristocratici. Infatti l'aristocrazia guerriera in questo periodo è importantissima. Il popolo è diviso in oikos. Il popolo costituito da artigiani e da contadini è diviso, dicevamo, in oikos. C'è la diffusione di questi gruppi greci di stirpe diverse di cui abbiamo parlato. C'è Dori, Ioni ed Eoli. È una fase di decadenza, scompare l'uso della scrittura nel Medioevo ellenico. I traffici commerciali e le produzioni artigianali vengono meno. C'è un'autarchia, una sorta di economia di sussistenza, chiamiamola così, basata su agricoltura e allevamento che dovevano servire solamente per il fabbisogno interno, senza possibilità di esportare, di commerciare. Sono distrutte le fortezze, la popolazione diminuisce, si innesca il processo però di formazione della policy. in questo Medioevo, così come in tutti i Medioevi, è vero che c'è una fase un pochettino oscura, ma c'è anche una fase che è foriera, quindi produttiva, di una nuova epoca, di una nuova era, di una nuova società, di una nuova civiltà che sarà completamente diversa rispetto a quella precedente. Perché c'è anche il Medioevo e basta, senza ellenico. Così come il Medioevo ellenico è comunque la fase in cui, diciamo, ferve un cambiamento che porterà alla società greca delle poleis, di cui parleremo le prossime volte, così anche nel Medioevo, tucur, ferve il cambiamento che porterà alla società moderna. Ecco, questa è la cartina che ci mostra la Grecia in questo periodo. i Dori che invadono e occupano, dicevamo, soprattutto l'Argolide, c'è la regione di Argo, la Laconia, la regione di Sparta e la Messenia, la regione di Pilo, nonché alcune zone a sud dell'Asia minore. Poi, dicevamo, gli Eoli, che occupano una parte centrale, diciamo, della Grecia, che va dalla Tessaglia alla Beozia, e invece le coste settentrionari dell'Asia minore. e gli Ioni, che occupano l'Attica, l'Eubea, e la parte centrale dell'Asia minore. Le fonti, per esempio, se per la civiltà minoica avevamo due tipi di fonti, cioè quelle archeologiche, dei palazzi di Knosso, ad esempio, e le scritture, che erano, per esempio, i pittogrammi, quasi geroglifici, della prima fase, il lineare A, ideografico, e il lineare B, sillabico, e se nella civiltà micenea addirittura avevamo tre fonti, cioè non solo i palazzi, non solo le tavolette, ad esempio, di cui abbiamo parlato prima, vi ricordate? No? Quindi in lineare B, ma anche i poemi omerici, invece, per questo periodo del Medioevo ellenico, abbiamo una sola fonte di cui possiamo disporre, cioè i poemi di Omero, perché non abbiamo né i palazzi, non c'è rimasto nulla dal punto di vista archeologico, di questo periodo del Medioevo ellenico, né la scrittura, non c'è scrittura in questo periodo, non ci sono documenti scritti in questo periodo, il Medioevo ellenico rimane un periodo oscuro per noi, proprio per la mancanza di queste fonti. Dobbiamo solamente, leggendo l'Iliade e soprattutto l'Odissea, congetturare quali sono stati i cambiamenti sociali, politici ed economici avvenuti nel periodo del Medioevo ellenico. Grazie. Grazie. Grazie.